Parliamo, riparliamo di Alexander McCall Smith, un narratore scozzese che è nato e cresciuto in famiglia bianca nel Botswana, vicino al Sudafrica, e che ha inventato tre cicli narrativi, tutti tradotti ed editi in italiano da Guanda, nel nostro sito trovate parecchi riferimenti. Adesso è arrivato in libreria l'ultima avventura del ciclo dedicato al caseggiato al numero 44 di Scotland Street a Edimburgo, l'insostenibile leggerezza degli scone di Alexander McCall Smith, edito da Guanda. Non mi soffermo su questo libro, ma dico brevemente la caratteristica di questo autore prolifico, ma molto fine, raffinato, con un umorismo delicato, colto, allusivo, con grande ritmo, lievità intelligente. È un bel narratore. Ha inventato tre cicli, io cerco di riassumere. Il primo ciclo è quello della detective nera del Botswana, si chiama Pressiaus Ramotsve, è grassa, lei dice non sono grassa, ho la corporatura tipica del mio paese. È affondato con una sua segretaria l'agenzia investigativa femminile numero uno del Botswana, numero uno ma non ce n'è una seconda, comunque la numero uno. Lei indaga non su delitti efferati, ma su furti seriali, su adulteri, goffaggini, debolezze, sconfinamenti, colpe minime, insomma, con grande lievità e rivelando la bellezza di questo paese. Poi c'è l'altro ciclo dedicato alla filosofa Isabelle d'Alogy, si inizia con il Club dei Filosofi Dilettanti, questa signora giovane, nubile, all'inizio delle sue avventure, ricca al punto che si può permettere di dirigere una rivista di filosofia che ha pochi lettori. E poi c'è il terzo ciclo numero 44 di Scotland Street, lo scrittore guarda da fuori questo caseggiato, le finestre, dietro ogni finestra c'è una storia umana, una famiglia degli abitanti, grandi, piccoli e questi intrecci di questo caseggiato costituiscono il terzo ciclo di cui adesso arriva l'ultimo capitolo con questo libro di cui vi ho detto. A dire il vero sarebbe bene, volendo scoprire questo scrittore, cominciare dall'inizio di ognuno dei tre cicli in risvolto di copertina, vedete la cronologia, così seguite i personaggi nella loro evoluzione, perché anche i personaggi di carta poi si innamorano, invecchiano, insomma un po' la vita loro cambia. Scoprirete, se non lo conoscete, uno scrittore raffinato e anche godibilissimo, Alexander McCall Smith.